E ormai tu hai fatto tutte le partite di un certo livello, partendo magari nella prima una prima defaianza, cos'è cambiato? Ma adesso sto prendendo condizione fisica pian piano, all'inizio avevo avuto un piccolo problema muscolare che ora ho superato, ho avuto una piccola lesione al flessore, infatti ho saltato la partita col Cagliari di Coppita. Adesso sto bene fisicamente, sto riprendendo pian piano e sono contento, soprattutto per la squadra perché stiamo dimostrando di essere un grande gruppo, soprattutto nelle difficoltà, stiamo dimostrando di essere una grande squadra. Ecco, la partita di domenica c'è stato questo atteggiamento anche molto propositivo e quindi anche molto offensivo della squadra. Voi avete dovuto affrontare soprattutto nel primo tempo qualche ripartenza del breccio. Però insomma, a parte un paio di occasioni concessi e il gol, poi alla fine non la siete davanti, no? No, tutto sommato è andata bene, soprattutto perché il mister ha preferito giocare con quattro attaccanti e alla fine credo che dietro siamo stati ben compatti, uniti, abbiamo rischiato pochissimo. Questo è un modulo che ti può dare vantaggio come ti può dare qualche svantaggio, però alla fine se si vuole fare qualcosa di importante, soprattutto in casa, bisogna vincere. Sempre riferito. Questo argomento, sì? Sì, no, sicuramente è un modulo che abbiamo provato in settimana e che secondo il mister, anche secondo noi, ha fruttato quello che poi si è visto sabato e domenica. Come ci ha detto il mister, possiamo giocare con quattro, cinque attaccanti. La mentalità deve essere sempre quella che abbiamo visto sabato, quella di essere decisi, compatti e di cercare di vincere le partite mostrando il carattere che abbiamo dimostrato sabato. E questo aspetto però, scusami, appunto questo aspetto vi fortifica anche come, a parte il gruppo che credo che sia molto buono, lo state dimostrando anche in campo, il fatto che tutti partecipi, no? Che era una roba, è importante. Sì, sì, sicuramente è importante. Secondo me, come credo anche gran parte della squadra pensa che la prestazione di Verona in una situazione difficile come quella che si è creata in nove contro undici, quella situazione secondo me ci ha creato ancora più compattezza di squadra che sicuramente ci darà dei vantaggi nel proseguo della stagione. Volevo che la prima cosa signora questa, nel senso che siete una squadra che è molto tosta, nel senso che riuscite a rimanere, a stare in nove, e avete un po' rialacciato, avete rialacciato il rapporto con il pubblico, come lo vivete questo rapporto con il pubblico? Poi essere quarti in classifica, in serie B, insomma, mobilità, che sensazioni avete? Ma, appunto, l'anno scorso nessuno dei due era qui, quindi non sappiamo come erano le dinamiche appunto con il pubblico. Quello che da parte mia, come credo anche da parte loro, dei miei compagni, c'è una sensazione bellissima, essere comunque, giocare in casa propria con un pubblico del genere fa venire i brividi. Ed è una cosa piacevole sicuramente avere tutta questa gente che ci segue. No, niente, alla fine domenica è stato il dodicesimo in campo perché credo che anche il Brescia, quando ho sentito un po' questa bolgia, diciamo così, credo hanno avuto un po' di timore. Da parte nostra fa piacere perché alla fine noi squadra, col pubblico, si possono fare grandi cose. Parlando della classifica, adesso credo che è ancora molto presto parlare di posizioni perché il campionato di B è molto lungo. Credo che da marzo in poi si inizierà a delineare un po' la fase finale di chi lotterà per i play-off e per la serie A. Noi fino a quel periodo dobbiamo lavorare duro, come stiamo facendo. Dobbiamo rimanere con i piedi a terra perché in questo campionato, come ho detto prima, è lungo, nasconde delle insidie, come ti puoi trovare lì su, all'improvviso come perdi due partite ti puoi trovare sotto. Quindi dobbiamo guardare partita per partita e ora la classifica non la dobbiamo guardare. Diciamo che però, proprio riavacciandomi a quello che avete detto ora, lui chiedeva come era rapporto l'anno scorso. Diciamo che qua, se la squadra, quando il pubblico vincita, la squadra se è una squadra che mi dà sempre tutto il campo, qui ci terranno sempre di più e la squadra avrà sempre più aiuto. Diciamo che questa è la grossa novità rispetto alla squadra dell'anno scorso, che comunque ha vinto tantissime da ringraziare. Però voi ammette questo tipo di caratteristiche che forse alcuni indicatori della squadra dell'anno scorso. Credo che la squadra sia stata costruita anche per questo quest'anno. È una piazza esigente come Spezia, credo che merita giocatori con carattere, grinta, voglia di dimostrare tutto. Credo che fino adesso l'abbiamo dimostrato. In quanto riguarda invece i vostri compagni dell'attacco, certo ci sarà una bella percorrenza tra l'anno scorso e poi, a parte domenica che ha fatto il sabato, domenica che ha fatto il 6-3, non sarà magari sempre così? Come ha detto prima Simone, credo che alla fine, o che si giochi in 5-6 attaccanti, l'importante è che nella fase difensiva difendano tutti. Infatti si è visto domenica, abbiamo giocato con 4 attaccanti, però difendevano tutti. Come ho detto prima, corri il rischio di prendere ripartenze, però se vuoi vincere le partite e vuoi fare qualcosa di importante, soprattutto in casa, devi rischiare. Simone, voi siete tutti e due, due giocatori che sono dei tempi, portati anche nell'area del Sera per cercare una confusione di testa, ma anche nel caso tuo, l'inveccata per i torri di San Sovini non viene da parte a tutti i tempi. Sì, queste chiaramente sono situazioni che proviamo durante la settimana, poi è chiaro che uno ce l'ha anche dentro. Ce l'ho avvenuta e hai provato durante la settimana. Quella no, quella è venuta per caso, però comunque sono situazioni che tu provi sempre sempre, anche negli anni passati, e quindi sono naturali e riesci poi quando sei in aria di vincolarti per bene. Ma che golletto? Speriamo che è al più presto. L'importante è che la squadra vincano. Sì. Quello è l'importante. Anzi, prima noi dobbiamo difendere, non fa prendere gol. Poi il gol viene con calma. L'ultima domanda che volevo fare, più quanto riguarda la partita di domenica, è chiaro che tutte le partite fuori caso sono difficili perché conoscete benissimo la vita, quindi non lo insegnate a me. Però è chiaro che l'Ascoli non è in questo momento tra quelle che hanno l'organità più importante, però ci vuole sempre la solita concentrazione. Io sono del parere che ogni partita di B ha una sua storia. perché se guardi negli anni passati, tipo due anni fa, tre anni fa a Torino, che aveva una squadra per vincere, non è andata a fare neanche i play-off. Quindi ogni partita va affrontata al massimo. Un sabato andremo sicuramente in un campo ostile, brutto, diciamo ambiente caldo perché comunque l'Ascoli ha tanti anni che fa la Serie B, quindi è una squadra esperta. Noi andremo lì sicuramente per fare la nostra partita e di portare un risultato positivo a casa. Buono. No, mi ha detto praticamente tutto Raffaele. Comunque ogni partita è una finale perché in questo campionato ce l'ha dimostrato la stagione passata. Anche il Pescara che ha vinto l'anno scorso ad Ascoli ha perso. Sono sempre partite difficili, poi soprattutto con queste squadre che vogliono lottare per arrivare il prima possibile alla salvezza e noi cercheremo di imporci e di vincere la partita. Grazie.